Concepita senza peccato originale, assunta in cielo, incoronata regina di tutte le cose. In croato la chiamano Gospa e la Madonna, la madre di Gesù. Ha capelli neri, lunghi. Basta vedere gli occhi della Madonna. Occhi sono azzurri. E lì è vera bellezza. È bellissima. Come ti senti protetto con la Madonna? Come è possibile che sei così bella? Vedi quanto lei ti ama, quanto ti vuole bene. E lei ha detto, figli miei perché amo. È così che apparve a sei ragazzini in uno sperduto villaggio della Jugoslavia comunista quasi tre decadi fa. Tutto sparisce. C'è solo tutto azzurro come cielo e Madonna in mezza. O l'evento più straordinario nella storia del cristianismo dopo ovviamente la risurrezione di Cristo. E lei non tocca mai terra. Ha sempre vestito grigio con velo bianco. Oppure la truffa più colossale mai avvenuta in questi duemila anni di storia. I veggenti sono stati studiati, esaminati, analizzati. Le estasi sviscerate con le tecnologie più sofisticate. Esiste analgesia completa nei ragazzi veggenti durante l'estasi. Specialisti credenti e atei di fede cattolica o convinzioni marxiste si sono avvicendati nello studio del mistero di Meggiugoria. Il loro verdetto è unanime. Si esclude la funzione e la frode. Le estasi sono tutt'altro che terminate. Dieci segreti attendono di essere svelati. Il terzo sarà un segno. Le implicazioni nell'immediato futuro si annunciano sconvolgenti su scala planetaria. Poi arriveranno invece altri sette segreti. Probabilmente saranno abbastanza terrificanti, catastrofici. Se davvero la Santa Vergine di Nazareth ci sta accompagnando così a lungo e così intensamente attraverso il passaggio tra due millenni, da cosa vuol metterci in guardia? E quali rimedi è venuto a portare? Cari figli, con la vostra preghiera e con il digiuno potete perfino fermare le perle. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco il tuo figlio. Cari figli, vi invito a riflettere sul vostro futuro. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. Voi state creando un mondo senza Dio solamente con le vostre forze. Ed è per questo che non siete contenti e non avete la gioia nel cuore. E da quel momento il discepolo l'ha presa nella sua casa. Questo tempo è il mio tempo, perciò figlioli vi invito di nuovo a pregare. Međugorje, frazione del comune di Citruk, provincia di Mostar, Jugoslavia. È il 24 giugno 1981, festa di San Giovanni Battista. Nell'aria alleggia il profumo delle piantagioni di tabacco. Gli adulti riposano, i giovani giocano a pallone, ma alle 17 circa le strade si svuotano e tutti rientrano nelle loro case. Su uno dei due canali che il regime comunista mette a disposizione sta per iniziare un atteso match di basket tra due squadre locali. Io, come tutti gli altri, guardavo una partita di pallacanestro. Nessuno vuole perdersi la partita, ma alcuni ragazzini rimangono in giro per strada. E Ivanka e io siamo uscite fuori di paese per stare un po' da sole, per parlare di cose normali, da che possono parlare ragazze da 16 e 15 anni. Sono stanche. Si siedono su una roccia ai piedi del Colle Podbrodo, nel soleggiato pomeriggio estivo. Ci siamo messe sotto la collina. In un momento Ivanka mi ha detto io penso che Madonna sulla collina. I bambini non avevano praticamente conoscenza delle altre apparizioni mariane, essendo vissuti sempre in uno stato comunista che non permetteva il racconto di queste vicende del passato. Uno scherzo di cattivo gusto per Mirian, che rifiuta di voltarsi in direzione della collina e fa per andarsene. Ma quando ero vicino, a prime case, ho sentito dentro di me come una chiamata per tornare sotto la collina. Chiamata era così forte che io sono tornata e io ho visto in mezzo a di sassi una signora in un vestito lungo come tiene un bambino in braccio. Praticamente si può dire che per la Madonna è una consuetudine scegliere dei bambini come veggenti. È capitato in quasi tutte le occasioni di questi ultimi due secoli. Ricordiamo per esempio Bernadette a Lourdes oppure i tre pastorelli a Fatima oppure Melania e Massimino alla Salette. Le ragazze restano sbalordite, confuse, frastornate. Nessuno sale mai su quel monte sassoso pieno di cespugli e rovi. Figurarsi una donna con una lunga veste e un bambino in braccio. Io tutte le emozioni che esistevano io le sentivo in quei momenti. Non sapevo o sono viva o morta o non capivo cosa mi succede. Non potevo nemmeno sognare che questo potesse accadere cioè che la Madonna può apparire. Non ho mai pensato alla tradizione e non sapevo neanche che Madonna poteva apparire qualcuno. I bambini sono molto più disponibili ad accogliere qualcosa di straordinario che non si aspetterebbero senza pregiudizi. La loro testimonianza ingenua talvolta anche fatta con difficoltà diventa autorevole nel momento in cui ci si rende conto che non possono aver inventato qualcosa che in realtà non conoscevano. In quegli interminabili minuti sopraggiungono altri quattro ragazzi. Due maschi e due femmine. Al cospetto di quella visione colti da una fortissima emozione uno dopo l'altro si danno alla fuga. La notte è lunga e inquieta. I loro racconti destano la preoccupazione di genitori e parenti. C'è chi gli consiglia di non scherzare con le cose sacre e di lasciare la Madonna in cielo e chi gli suggerisce di gettare dell'acqua santa su quell'apparizione per scacciarla se di origine diabolica. E in quel primo giorno furono in sé i ragazzi che videro questa bella signora. Il giorno successivo altri due ragazzi si aggiunsero mentre invece due non parteciparono più a questa apparizione. A Mirjana, Ivanka, Ivan Dragicevic e Vizca si aggiungono due amici Maria Pavlovich e Jakov Kolo. La visione si ripresenta alla stessa ora sul podbrodo. Vizca asperge di acqua santa il capo della Vergine che sorride e divertita per quell'esorcismo improvvisato. Io ero più giovane di tutti gli altri sei avevo soltanto dieci anni il giorno più bello più bello della mia vita è stato il 25 di giugno che il giorno quando ho visto per la prima volta la Madonna. Lei ha detto figli miei non dovete avere paura di me io sono regina della pace madre perché proprio io e lei rispose caro figlio sai che io non cerco i migliori. e così il 25 giugno 1981 si costituì quello che viene comunemente considerato il collegio dei sei veggenti. Hanno dai dieci ai sedici anni e non immaginano cosa gli aspetti. Per loro è iniziata un'avventura che sfiderà la ragione la scienza il regime comunista e la stessa chiesa cattolica nella persona del parroco di Međugorje il francescano Ioso Zovko il primo a vivere con sospetto e scetticismo l'incredibile notizia che serpeggia nel paese mobilitando negli abitanti. io non credo cari miei non andate sulla montagna andate a casa per continuare a pregare che il Signore ci aiuta. Temette che fosse una macchinazione del regime per screditare la chiesa cattolica e quindi nei primi giorni non credeva a quello che stava succedendo. Il decimo giorno si trovava in chiesa e all'improvviso sentì una voce una voce nel cuore vai e salva i ragazzi. si alzò andò alla porta della chiesa la aprì e improvvisamente entrarono tutti i sei bambini che stavano fuggendo perché i poliziotti li inseguivano. Fu il momento fondamentale del suo cambiamento d'opinione fu il momento in cui capì che stava avvenendo realmente qualcosa di sopranaturale qualcosa che era legato all'apparizione di Maria. La notizia supera i confini del paese migliaia di persone accorrono a Međugorje osservano con sgomento quei sei ragazzini che corrono come fulmini sulle rocce aguzze del monte Podbrodo verso qualcosa che li attrae irresistibilmente cercano dei segni delle prove che non tardano ad arrivare. A questi primi giorni Madonna ha fatto vedere tanti segni che così quasi tutti di Podbrodo hanno visto qualche cosa e ci hanno creduto e ci aiutavano. Uno di questi segni visibili a tutti è interessato il Krisevaz monte sovrastato da una massiccia croce di cemento eretta per devozione nel 1933. Montagna della croce coperta con la luce tutti i parocchiani e altri inginocchiati fuori guardano sopra lei uscita davanti a noi è diventata visibile per tutti tutti Nei primi mesi le testimonianze di eventi straordinari e inspiegabili si moltiplicano migliaia di persone a Medjugorje nei villaggi circostanti assistono meravigliati a fenomeni luminosi nel disco solare in tutto simili al celebre miracolo del sole verificatosi a Fatima davanti a 70.000 testimoni oculari nel 1917 questo sole che a un certo punto ha aumentato di intensità il suo colore giallo poi ha cominciato a ruotare a ruotare vertiginosamente con una velocità incredibile e poi c'erano tutti i colori dal verde al viola al blu tutti quanti e poi questo sole ha smesso di girare vertiginosamente e apparso un ostia gigante con la scritta IHS nel sole c'era anche mia sorella ha visto le stesse cose il cristogramma IHS nel sole visto in altre celebri apparizioni mariane e poi ancora in un soleggiato pomeriggio estivo di quel 1981 compare la scritta Mirra pace in croato vergata in caratteri d'oro nel cielo sopra Medjugorje avvengono guarigioni clamorose come quella del contadino non vedente Iozo Vasili finito sui giornali per l'improvviso e totale recupero della vista una pioggia di benedizioni e grazie si riversa sulla popolazione che risponde entusiasticamente anche a costo di pesanti conseguenze alcuni finiscono in carcere per la loro testimonianza il regime comunista infatti interviene immediatamente il 27 giugno del 1981 quarto giorno delle apparizioni Medjugorje viene assediata dalle forze di polizia la colina subito era circondata di poliziotti e cani e chi andava sulla colina andava immediatamente in prigione così noi abbiamo avuto sempre apparizioni ogni sera in diverso posto il regime vuole stroncare sul nascere quella che ritiene una truffa della chiesa i sei veggenti poco più che ragazzini vengono prelevati più volte anche con l'inganno e con la forza e messi sotto torchio con metodi poco ortodossi affinché dichiarino di essersi inventati tutto per i bambini soprattutto nei primi tempi avere queste visioni e testimoniare che appariva la Madonna significò subire molti soprusi molte angherie molte minacce addirittura gli si diceva non tornerà più tuo padre dalla Germania non ti faremo studiare più tua mamma perderà il lavoro sopportare tutto questo per i bambini ovviamente fu difficile ricatti minacce e visite mediche non danno i risultati sperati i veggenti risultano completamente sani lucidi e stranei all'uso di alcol farmaci o droghe disposti ad affrontare ogni conseguenza in nome dell'evento di cui sono testimoni dovunque si trovino intorno alle 18 l'estasi si impone ai loro sensi anche in presenza della polizia di stato la loro testimonianza possiede una forza sconvolgente impensabile per dei ragazzini della loro età dottoressa gridava contro bambini Jacopo ha detto signora io sono pronto a morire per la Madonna dare il mio sangue per la Madonna mi dico chi ascoltava è convertito era talmente forte la verità che loro avevano di fronte che riuscirono a superare qualsiasi prova non potendo infierire sui veggenti tutti i minorenni il regime cambia bersaglio padre Iozzo principale difensore dei ragazzi viene arrestato e incarcerato con motivazioni pretestuose è sopravvissuto a un anno e mezzo di violenze e torture che ne hanno gravemente compromesso la salute rilasciato anche grazie alle pressioni della comunità internazionale questo santuomo dalla fede rocciosa risiede oggi a Sirochi-Brieg terra di martiri a qualche chilometro da Međugorje dedica la sua vita alla preghiera alla testimonianza e a più di 5.000 orfani si deve anche oggi col martirio con amore col sangue testimoniare la fede l'eccezionalità di questa manifestazione mariana assume da subito implicazioni più ampie la Santa Vergine svela i sei prescelti dieci segreti sul futuro dell'umanità alcuni meravigliosi altri terribili tanto da portare alle lacrime inveggenti che a tutt'oggi li custodiscono con il massimo riservo in attesa del momento in cui rivelarli all'umanità non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale ma so per certo che la quarta si combatterà con pietre e bastoni il monito di Albert Einstein ci ricorda che l'umanità è giunta sulla soglia di un punto di non ritorno su tanti fronti quale enorme minaccia starebbe gravando sul nostro futuro e soprattutto siamo ancora in tempo per scongiurarla prima di tentare di dare una risposta a questi quesiti è necessario conoscere i fatti accaduti fino ad oggi a cominciare dai cosiddetti veggenti di Meggiugorie chi sono quale credibilità hanno come testimoni di queste apparizioni è possibile che si siano inventati tutto che abbiano frodato milioni di persone in tutto il mondo così a lungo che si siano inventati Grazie a tutti. 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 Il primo parametro osservato e misurato è la simultaneità. Fissare tutti insieme una emittente a noi ignota, però simultaneamente da loro percepita e alla fine di questo fenomeno l'elettro-oculogramma con una discrepanza di pochi millesimi di secondo dimostrava questa simultaneità. Grazie a tutti. I movimenti dei loro globi oculari cessano e gli sguardi convergono contemporaneamente verso uno stesso punto. La chiusura delle palpebre diminuisce fin quasi a cessare del tutto. La loro voce scompare improvvisamente e simultaneamente. I veggenti continuano a pregare muovendo le labbra, ma le corde vocali non emettono alcun suono, anche se a livello fisiologico e diaframmatico non si registrano anomalie. La voce semplicemente scompare. Poi ritorna udibile, anche qui, con una perfetta sincronia. I veggenti pronunciano contemporaneamente la frase «che sei nei cieli», come se qualcuno che solo loro possono udire avesse pronunciato le parole «padre nostro». Al termine dell'estasi, i veggenti alzano lo sguardo nello stesso istante, come se l'oggetto che stanno fissando subisse un improvviso moto ascensionale. I parametri fisiologici e gli elettroencefalogrammi dimostrano che non si tratta di sonno, sogno, epilessia o allucinazione. Gli specialisti sono concordi nell'affermare che l'insieme di queste reazioni è impossibile da spiegare senza ipotizzare la presenza di un impulso esterno. Ma cosa accade esattamente in questi ragazzi durante l'estasi? Avevamo utilizzato degli strumenti scientifici complessi che indagavano innanzitutto la capacità di questi ragazzi di sentire il dolore prima, durante e dopo l'estasi. Mentre prima di questa manifestazione, chiamiamo estatica, la sensibilità dolorifica di questi ragazzi era normale, durante l'estasi la soglia del dolore si modificava del 700%, fino a diventare sostanzialmente insensibili a ogni stimolo nocicettivo. Nel 1958, luminari e professori constatarono l'insensibilità al dolore di Bernadette Subirot, la veggente di Lorde, passandole una candela accesa sotto la mano. Oggi la scienza conferma con più attendibilità questo dato empirico, ma consente di andare molto oltre. Se noi stimoliamo una persona all'improvviso con un rumore forte, c'è una variazione emotiva che si riflette sullo stato neurovegetativo dell'individuo. Attraverso lo studio dell'elettrodermia, noi abbiamo potuto sostanzialmente dimostrare che nel momento dell'estasi scompare la sensibilità di questi ragazzi rispetto alla circostanza. La percezione di stimoli sonori, luminosi e termici del tutto normale, prima e dopo l'estasi, subisce nei veggenti una temporanea interruzione durante la visione. I flash dei fotografi lampeggiano, ma i ragazzi non ne risentono, non sbattono le palpebre, sono come rapiti in un altro luogo. Eppure, e questo è il dato sorprendente, il loro apparato neurofisiologico resta pienamente funzionante. Attraverso lo studio dei potenziali evocati del tronco e dell'encefalo, abbiamo trovato che le vie nervose erano tutte aperte. Ovvero sia, questi ragazzi erano perfettamente vigili. Vedono, odono, percepiscono, però nello stesso tempo non reagiscono, come se la loro attenzione fosse attratta o totalmente interessata da un altro stimolo, da una emittente che noi però non abbiamo potuto valutare. Un'emittente misteriosa, la cui presenza è desumibile grazie a un altro parametro, la pupillometria. In un soggetto normale, il diametro pupillare non subisce cambiamenti se non in concomitanza con variazioni della luminosità ambientale. Lo studio pupillometrico effettuato sui veggenti ha svelato un dato sconcertante. A parità di condizioni di illuminazione ambientale, la loro pupilla subisce una dilatazione significativa ed inspiegabile durante l'estasi per poi tornare a rimpicciolirsi al termine del fenomeno. Nessuno può produrre volontariamente simili modificazioni. Soltanto un evento esterno può farlo. Noi medici non siamo stati in grado di dare una spiegazione scientifica a questo fenomeno. Non c'è frode, non c'è inganno, non c'è simulazione. I ragazzi stanno vivendo effettivamente qualcosa di straordinario, qualcosa che non è voluto da loro, qualcosa che arriva dall'esterno e che si impone su di loro, sulla loro volontà, su quello che stanno facendo. Soltanto un evento